Lo sportello del cittadino ha sposato per così dire la causa dello sportello universo donna e allora siamo curiosi di capire di scoprire quali iniziative bollono in pentola. Siamo con Gianna Cavallo responsabile del settore pari opportunità e servizi sociali dell'associazione Stella Maris che ha proprio dato vita a questo sportello universo donna. Dicevo tante iniziative in cantiere, beh lei è un vulcano in piena, ma ci dica un po' le iniziative, quelle a medio, breve e medio termine. Grazie Luigi, grazie soprattutto per l'attenzione che tu principalmente in prima persona poni nei confronti dello sportello universo donna, nei confronti delle problematiche legate al mondo femminile. Io volevo ricordare proprio l'iniziativa proposta per il 25 di novembre, quindi giornata internazionale contro la violenza sulle donne e che questa camminata podistica che abbiamo organizzato nelle vie del centro, anche nella villa Peripato, con poi la presentazione di un corso di difesa personale aperto a tutte le donne di qualsiasi fascia d'età. Poi nel corso della giornata, in serata, noi presenteremo ufficialmente, quindi sarà distribuito materiale pubblicitario dello sportello e presso il cui ci sarà un'esposizione di vari artiste che esporranno delle loro creature, dei loro prodotti, proprio ad indicare che per ogni attività artigianale si può organizzare un corso proprio per il recupero della personalità delle donne vittime di violenza, fosse anche soltanto per il fatto di condividere insieme ad altre donne, ad altre amiche un percorso di non sentirsi mai da sole. Un'altra iniziativa importante è quella che andremo poi a proporre ai due grossi centri commerciali che abbiamo sul nostro territorio, dell'istituzione in quel giorno di un gazebo con il materiale informativo dello sportello, ma in quella giornata sarà a disposizione della cittadinanza per chi ne avesse bisogno, le nostre professioniste, quindi le psicologhe, gli avvocati, a disposizione di tutti.